Domenica 27 giugno in Puglia sono stati registrati 3940 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 33 casi positivi, 2 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione e un caso di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in Puglia più di 2.650.000 test, 242.723 sono i pazienti guariti e 3.875 sono i casi attualmente positivi in regione.